Gli scandali del governo Meloni, un'analisi dei momenti sconcertanti del potere Il governo presieduto da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha dominato le scene politiche italiane dopo le elezioni del 2022. Promettendo un cambiamento radicale e una gestione etica, il suo partito ha conquistato la fiducia di molti e ha ottenuto una solida maggioranza parlamentare. Tuttavia, nel corso del suo mandato, il governo Meloni ha affrontato diversi scandali che hanno sollevato interrogativi sulla sua integrità e sul suo impegno per il bene comune. In questo articolo, esploreremo alcuni dei momenti più sconcertanti del potere che hanno segnato il governo Meloni. 1. Caso degli appalti truccati. Uno dei primi scandali a colpire il governo Meloni è stato il caso degli appalti truccati. Diverse indagini giornalistiche hanno rivelato presunti legami tra funzionari governativi e imprenditori corrotti nell'assegnazione degli appalti pubblici. Queste accuse hanno gettato un'ombra sulle promesse di trasparenza e meritocrazia avanzate dal governo, sollevando preoccupazioni sulla possibilità che gli interessi privati potessero influenzare le decisioni pubbliche. 2. Scandalo delle spese di rappresentanza. Un altro scandalo che ha scosso il governo Meloni riguarda le spese di rappresentanza dei politici. È emerso che alcuni membri del governo avrebbero utilizzato fondi pubblici per coprire spese personali, tra cui viaggi di lusso e cene costose. Questo comportamento ha suscitato indignazione nell'opinione pubblica, che si aspettava una gestione più responsabile e parsimoniosa delle risorse finanziarie del paese. 3. Accuse di nepotismo. L'accusa di nepotismo ha colpito il governo Meloni quando sono emersi rapporti che indicavano la nomina di parenti e amici a posizioni chiave all'interno dell'amministrazione pubblica. Queste nomine sono state viste come una violazione del principio di merito e come una forma di favoritismo politico. Tale comportamento ha sollevato dubbi sulla capacità del governo di operare in modo indipendente ed equo. 4. Controversie legate alla libertà di stampa. Durante il mandato del governo Meloni, sono sorte polemiche riguardo alla libertà di stampa. Alcuni giornalisti e organizzazioni dei media hanno accusato il governo di cercare di influenzare l'agenda mediatica attraverso pressioni e minacce. Questi episodi hanno sollevato interrogativi sul rispetto dei principi democratici fondamentali e sulla volontà del governo di accettare il pluralismo delle opinioni. Conclusioni. Il governo Meloni è stato caratterizzato da una serie di scandali che hanno messo in dubbio l'integrità e la capacità di gestione del potere. Gli appalti truccati, le spese di rappresentanza discutibili, le accuse di nepotismo e le controversie sulla libertà di stampa hanno sollevato preoccupazioni sul rispetto delle norme etiche e democratiche. Questi scandali richiedono una profonda riflessione sulla cultura politica e sull'importanza di un governo trasparente e responsabile.